Buonasera, benvenuti e bentornati. Siamo tornati dalle vacanze e questa si chiama ancora Casa Caffè, siamo tornati felici di aver avuto un momento di pausa, con gli studi rinnovati non posso fare il cicerone, non posso mostrarvi soprattutto nella regia cosa è cambiato, ma intanto bentornati a voi e bentornati anche alla trasmissione, possiamo dire che ho sentito un po' la mancanza, perché è agosto così a casa senza fare niente, non va mica bene. In compenso sono successe tante cose, tante ne succederanno e quindi ricominciamo a fare quella che è la sequenza delle nostre trasmissioni che vi informano su un sacco di cose, dai libri alle manifestazioni a gente che suona, abbiamo le novità con i gruppi bellissime. E quindi aspettatevi un po' di tutto, ma nel frattempo cominciamo. Cominciamo come sempre con Claudio Casorati, in versione solitaria, in conduzione questa sera per il rientro e poi il primo ospite di questa nuova serie ed eccolo qui. Francesco Mutignini lo conosciamo perché Associazione Balbino del Nunzio, sei già stato ospite, abbiamo già presentato un sacco di cose, abbiamo parlato di quella famosa grande guerra del 15-18 con delle cose che sono successe. Adesso però ne abbiamo già delle altre, ne abbiamo pronte ancora ad andare in onda. Così, cominciamo con una rapida carrellata, parleremo anche di altre cose, ci faremo anche una bella mangiata teorica di Amatriciana. Amatrice in questo periodo purtroppo è balzata agli onori della cronaca, ma con le brutte notizie, non solamente con la sua pasta, ma parleremo di tante cose. Cominciamo a parlare di questo, cominciamo a parlare della grande guerra, eravamo rimasti con delle manifestazioni dal 15 al 18 e dobbiamo andare avanti dal 2015 al 2018. Quindi non si fermano le manifestazioni e dove andiamo? Io se non vado errato, andiamo a Verona? Andiamo a Verona. Andiamo a Verona. Cominciamo a parlare di questa cosa qui. Andiamo a Verona con la mostra Album dal fronte, incontrarsi dopo 100 anni. Si tratta della mostra che è un po' la continuazione di quella che era stata presentata l'anno scorso a Padova presso il Museo della Terza Armata, con un ulteriore arricchimento in termini di immagini fotografiche e di documentazione. Una mostra che questa volta resta aperta per ben due mesi, cioè si inaugura il 14 ottobre e va a chiudere il 16 dicembre. Quindi è un periodo molto lungo nel quale ci saranno però una serie di avvenimenti a corollario della mostra stessa che sono delle conferenze, addirittura uno spettacolo teatrale della compagnia Gino Franzi che organizza insieme all'Associazione Culturale Balbino di Annunzio questa iniziativa e ci saranno anche visite guidate per scuole, diciamo il tutto in un bellissimo ambiente che è il bastione delle Maddalene, che è una parte della fortezza veronese che faceva parte del quadrilatero e che è stata restaurata in modo veramente molto brillante direi da architetti. E' stata proprio bella. Bella e quindi merita di essere conosciuta e di avere questo tipo magari di avvenimenti culturali. Quando mi hai dato il titolo così, mi è venuto in mente Ron con la sua, vorrei incontrarti fra cent'anni, certo è un po' difficile ritrovarsi cent'anni dopo anche per le persone molto longeve. Ovviamente non è certo chi ha combattuto una guerra perché non la combatti ad anni zero, almeno una ventina devi averli, quindi non è facile incontrarsi. Però l'ipotesi di vedere, chissà come ci resterebbero persone che hanno vissuto e già in età avanzata la guerra mondiale, quindi gente che poteva avere 50, 60 anni nel 1915, che potrebbe solo strabuzzare gli occhi a vedere come stiamo vivendo, come è il mondo adesso con la tecnologia, con tutte queste cose incredibili per quegli anni. Sarebbe veramente la differenza di un centenario, sì se uno non ci lascia spendere la sorpresa, potrebbe essere veramente un mondo magico, potrebbero non crederci, potrebbero dire non lo so, è che è un film, un film sì certo, di una strana fantascienza. Diciamo che l'incontrarsi dopo cent'anni si riferisce anche al fatto che nella prima edizione che citavo in precedenza di questa mostra fotografica, tra i collaboratori c'era il professor Italo Vantini che portò il suo materiale relativo alle esperienze di suo padre, Giuseppe Vantini, che si era trovato sul fronte dolomitico, quello appunto dove Arturo De Santis, che è l'autore di questo album, aveva scattato foto e aveva arricchito questo documento che consta di 210 pagine. e nella collaborazione tra il curatore della mostra Andrea Morelli e il professor Italo Vantini ci fu una scoperta veramente incredibile, cioè che c'erano delle foto che erano le stesse delle due documentazioni e quindi da questo venne fuori che Giuseppe Vantini e Arturo De Santis si erano incontrati e si erano conosciuti e quindi questa scoperta fatta dopo cent'anni sta a dare anche un ulteriore segnale che si sposa con quello che hai detto in precedenza, anche come concezione di questa... Scambi generazionali pazzeschi, perché in cent'anni una volta uno poteva pensare a tre generazioni, adesso ogni dieci anni cambia, perché ormai con la velocità di adeguamento per quello che sono le tecnologie, cioè già i ragazzi di 20, da quelli di 30, è tutta un'altra cosa. E quindi sembrano generazioni che passano invece, non è vero perché la gente, insomma, si fa la famiglia sempre più tardi purtroppo e o non se la fa proprio perché ormai cominciamo a fare i conti, purtroppo una volta andavano in guerra e qualcuno andava, qualcuno della famiglia restava perché le famiglie erano abbastanza numerose, purtroppo adesso non è più così, adesso abbiamo anche questo piccolo problema, anche se al mondo siamo così tanti che dice attenzione, è un peccato perdere le radici, è un peccato perdere le nostre esperienze, è un peccato non vedere il proprio ramo familiare che va avanti, però come numero di persone, non è che siamo sotto... ecco, ce ne sono pochi dei nostri, forse no? Mentre sono in espansione altri popoli e non andiamo a mettere altri cavigli o aggiungere che poi se no scattano le parole strane di colonizzazione, invasione, che ormai vengono sfruttate anche in mala maniera e purtroppo sì, le nostre radici vanno ad assottigliarsi, non a sparire ma ad assottigliarsi, questo assolutamente sì. Ogni tanto però ci pensavo alla guerra una volta, a ridurre il numero delle persone, perché purtroppo... Già, mire espansionistiche, esigenze anche di alta natura, conducevano a questi eventi terribili come è stata la grande guerra di cui stiamo appunto parlando un po'. Purtroppo invece ci sono sistemi alternativi, ci sono i virus, ci sono le... lasciamo stare gli attentati e queste cose qui, per carità non parliamo di quello, però anche lì la selezione comunque c'è lo stesso, attenzione perché la selezione c'è lo stesso ma nonostante tutto e continuiamo a crescere. Ecco, le brutte esperienze di una guerra che comunque era ancora una guerra di trincea, quella che era la prima guerra mondiale era ancora una guerra di trincea, per quello dico 100 anni dopo ormai si parla di tutto collegato a un pc, tutto collegato a una tastiera, ormai partono i droni, il soldato più bravo potrebbe essere quello più bravo a questo punto, o se fa il tiratore, il tiratore è scelto, ma se no il tiratore da drone, cioè quello che li guida e fa così. Che strano sistema di immaginare una guerra, una volta vinceva un esercito forte del suo numero di soldati, adesso poi contare le bombe che puoi avere a disposizione, ma per lanciarle bastano pochi. che stranezza, per chi le ha studiate queste cose? Come la vedi tu? Sicuramente c'è stato un cambiamento epocale e secondo me il riflettere su che cosa abbiano potuto passare questi giovani sulle trincee in situazioni veramente disagiate, in cui si sono trovati proprio proiettati, insomma, improvvisamente anche con, come si può dire, delle mire o delle idee che la cosa si sarebbe risolta poi in 4-4-8, che si sarebbe superati ostacoli naturali e ovviamente l'esercito avverso in realtà poi si è dimostrata in una situazione assolutamente non corrispondente a quelle che erano le idee. Quindi secondo me oggi, tornando alla tecnologia avanzata, in questo periodo che viviamo di incrementi rapidissimi, variazioni veramente dell'ordine dei giorni o dei mesi su alcuni sviluppi tecnologici, comunque riflettere sulla vita di questi giovani che comunque avevano chiaramente i loro ideali, le loro aspettative in questo che poi si è rivelato essere insomma un inferno o perlomeno sicuramente una situazione molto aiuta, dovrebbe aiutare a riflettere. Adesso ci scherziamo, 349-06-34-349 lo vedete in sovrimpressione sulla fascia sotto del vostro televisore, il 349-06-34-349 ripeto è per mandare eventualmente un sms e un whatsapp per chiedere qualcosa, per fare anche i vostri commenti assolutamente e lo uso e mi viene in mente perché sto pensando alla solitudine perché si è in tanti anche quando si è al fronte, in trincea non si è da soli, ma è la stessa solitudine che hanno i ragazzi adesso quando comunque non sono con la propria compagnia e sono virtualmente in compagnia, anche lì erano virtualmente in compagnia perché fisicamente c'erano le persone in fianco, immagino avessero avuto la possibilità di mandare l'sms a casa, di fare questa cosa qui, perché era una solitudine pazzesca perché lontano dagli effetti, i propri effetti, sei con altri ragazzi, hanno la tua età più o meno, hanno la stessa divisa, siamo vestiti tutti uguali, con lo stesso credo, però soli, la casa è lontana e quindi ci poteva essere qualcosa, però te lo vedi tu, la un'estrincea che ti comincia a mandare l'sms e ti arriva l'altro che ti spara, sono quelle cose che mi fanno un po' sorridere, però effettivamente oggi c'è la stessa solitudine, abbiamo tutti i mezzi, però abbiamo la stessa solitudine perché quando puoi condividere tante cose se le hai vicine eccetera eccetera è ancora una condivisione, ci sono gli abbracci, ancora le vecchie carezze funzionano ancora, i baci si possono ancora dare, se no sei solo lo stesso, è vero che a portata di Skype ti vedi e ti parli, una volta le lettere che partivano dal fronte arrivavano, arrivavi a casa prima tu quasi, non poteva succedere, prima tu no, ma in certi momenti sì, in caso di qualche battosta le lettere non arrivavano proprio, quindi che strane cose, cent'anni dopo sono le stesse cose viste da altre parti, ma sarà la stessa solitudine anche se non siamo al fronte, la guerra ormai la viviamo lo stesso perché il clima per via degli attentati eccetera è un clima simile e quindi che dire, noi abbiamo queste serie e quindi cent'anni dopo, Verona però poi passerà a Selvazzano, volevo dire perché potremmo parlare con Giovanna Rossi se riusciamo a contattarla, questa era da dire per il nostro regista, che tutte queste cose, questa bella mostra la riportiamo anche a Selvazzano. La mostra sarà presente anche un mese, il mese di novembre prossimo, a Selvazzano. Quindi se uno non riesce ad andare a Verona, voglio dire… Esattamente, c'è questa ulteriore possibilità perché il fatto che siano anche in parallelo per un certo periodo, deriva dal fatto che la mostra si presenta sia in pannelli fotografici che in poster, i pannelli fotografici saranno utilizzati a Verona, i poster a Selvazzano. Quindi c'è anche la scusa per vedere entrambe le cose. Anche lì ci saranno conferenze, incontri con le scuole eccetera, per dare diffusione a questa… Questo è interessante e così se hai una mini statistica. Questo è stato affrontato inizialmente da molte persone perché con il 2015 siamo arrivati su un po' tutti quanti, hanno fatto qualcosa. Però nel perseverare e nell'andare avanti c'è ancora grande impegno un po' da parte di tutti oppure qualcuno, fatto che ha fatto, la sua particina è andata. E qualcuno invece dice no, caspita, abbiamo tempo per fare più cose, per vedere da più parti, no? E qui? Sì. No, ma addirittura testimonia anche la durata dell'evento che con diverse sfaccettature, arricchimenti sia di materiale fotografico, ma c'è andato in precedenza, che anche di altra documentazione, passa dal mese del 2015 presso il Museo della Terza Armata ai due mesi di Verona e al mese di Selvazzano, cioè a testimonianza di un interesse anche da parte delle amministrazioni, di chi si è trovato coinvolto. Cito ad esempio, a Verona c'è stato l'incontro con la compagnia Gino Franzi che è specializzata in spettacoli teatrali e musicali per lo più ambientati nell'epoca che ci interessa, che è stata veramente entusiasta di poter attivare questa collaborazione e arricchirà anche la mostra con degli spettacoli teatrali. Quindi l'entusiasmo è cresciuto, poi il primo curatore della mostra, Andrea Morelli, è stato affiancato dal professor Vantini e sono loro i curatori delle prossime mostre, ognuno con materiale che man mano cresce. Io ho notizia che sono state trovate dell'ulteriore documentazione fotografica di una famiglia abruzzese che si chiama Ciavolic e che questa la metterà a disposizione proprio sempre per rendere questa mostra sempre più interessante e con materiale di varia provenienza e quindi che è stato preparato o fatto con vari obiettivi, se vogliamo. Stavo anche pensando che il modo di studiare oggi è sempre più portato ad essere per immagini che non per nozioni, perché sono più immediate, perché sono più facilmente reperibili, perché grazie a internet si trova tutto, si può vedere di tutto. Quindi queste mostre così, magari poi messe un po' via, archiviate con qualche piccolo filmato, può servire ai giovani per raccontare la storia in maniera un po' più viva rispetto a quello che puoi trovare sul libro, perché il libro quello ti può dare non di più e anche chi lo studia così può trovarci un po' di interesse, però io ricordo, ci sono delle cose in cui le leggi, le studi, per carità le impari perché se sei interrogato le devi sapere, però insomma le giri un po' le pagine e quello ti resta quel tanto che ti serve per il momento in cui studi, poi a livello latente qualcosa che forse ti interessava, perché se qualcosa ti è interessato quella piccola parte ti resta, ma credo che se cominci a vedere una serie di fotografie, uno spettacolo teatrale eccetera, quando sei giovane, è ancora la memoria buona, dove le cose ti colpiscono di più e ti restano impresse, credo Francesco, che possa essere anche un buon sistema di raccontare la storia che ti resta più dentro però, non semplicemente date, numeri o cose e ti sembra un po', non dico di viverla, però di capirla, poi capire come veniva vissuta dalle persone, ecco, questo mi sembra un bel modo, anche questo per aiutare nello studio i ragazzi, se poi qualcuno addirittura è interessato alla storia come argomento, allora è un approfondimento in più. Sono perfettamente d'accordo, tra l'altro con le argomentazioni che tu citavi in precedenza, anche questa esigenza di un ufficiale abruzzese, Arturo De Santis, di testimoniare con 500 e più fotografie e con la raccolta di 20 pagine di disegni acquarelli etc., questo momento che questi giovani stavano vivendo è una cosa anche un po' particolare, perché è un album che è stato creato, redatto sul posto, sul fronte, quindi si vede che era un'esigenza anche questa di dare un… come puoi dire? Possiamo dire che credono di aver inventato il selfie oggi, che lo facevano cent'anni fa con gli apparelli o con la macchina fotografica. Allora, momentaneamente l'assessore Rossi in riunione, ci dice gentilmente la regia, quindi momentaneamente non diciamo niente, però parleremo lo stesso, vediamo se riusciamo più tardi, eventualmente approfittiamo dal parlare di Servazzano. Invece prima abbiamo parlato, intanto parliamo di Abruzzo, parliamo di Molise, purtroppo parliamo e qui ho citato la parola amatriciana, perché? Perché uno dei paesi colpiti dal terremoto purtroppo è amatrice e qui c'è tutta una storia da raccontare, perché è stata una bella cosa, è stata che per partire con la solidarietà, per raccogliere del denaro, una volta tanto è stata una bella pensata, mettiamoci tutti quanti intorno a un tavolo, mangiamoci una bella amatriciana e mandiamo gli aiuti raccogliendo i soldi così. Questa è una bella storia, poi su quello nascono le leggende, l'amatriciana qual è quella vera, è romana, non è romana, raccontaci un po' qualcosa che così, che se parliamo solo di guerra diventa pesante, è anche un po' l'ora di cena, quindi parlare un po' di amatriciana può essere anche un'idea. Certo. Francesco, illuminaci. No, quello… Un po', no, non da poco, no, 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 certo, certo. Ma che ne sai della storia, per carità. Diciamo che innanzitutto va detto che Amatrice, graficamente, è Abruzzo, perché soltanto nel 1927 dalla provincia dell'Aquila è passata la provincia di Rieti con… Benito Mussolini, sì, 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 e devo dire che la popolazione locale si sente ancora abruzzese. Mi citava un esempio purtroppo drammatico, quello che avevano spostato purtroppo le persone decedute a Rieti per poter fare la cerimonia funebre e abbiamo anche saputo che l'hanno dovute riportare ad Amatrice e la cerimonia è stata svolta da Amatrice e persone che provengono da quel posto, che hanno avuto anche lo shock di questo terribile evento, testimoniano il fatto che questa cittadina non si è mai sentita, diciamo, reatina, ecco se vogliamo… Certo, le radici sono quelle originali. Sono quelle, per cui hanno voluto assolutamente che il tutto avvenisse sul posto, insomma. Ovviamente il rispetto alle radici è fondamentale, se le persone la sentono così, che vi devo dire. Oh, intanto abbiamo già subito un bel messaggio, questo mi fa piacere, grazie. Allora, complimenti di trasmissione, utili anche per i nostri giovani, devono sapere che sono morti, chi è morto per difendere la patria e come. Questo è Antonio che ci dice questa cosa, grazie, perché è la ragione per cui noi insistiamo, ne abbiamo parlato in occasione della manifestazione di Padova, adesso ne parliamo nell'occasione di quella di Verona, arricchita, ne parleremo e comunque ne abbiamo già un po' accennato stasera perché verrà a Selvazzano. Tutto questo che è stato il 15-18 è una cosa che deve restare e come abbiamo testa detto, è un piacere che ci possa essere la possibilità di vederla per immagini, di vederla con, ci ridiamo sopra questi selfie di cent'anni fa, proprio perché entrano meglio, possono essere capite, non sono perché fanno parte della storia della nostra Italia e quindi giustamente, guerre sono state dappertutto, morte dappertutto, però la storia è la storia in quello che sono tutte le parti delle guerre di tutto il mondo, però le nostre, giustamente la prima guerra mondiale, vederla per immagini così sicuramente può essere più utile per capirla, per viverla, per sentirla, è nostra, però per sentirla nostra è un po' strano come modo, mi scuso se non riesco a dirlo con parole diverse, ma volevo far capire il fatto di viverla per immagini, ecco se possiamo dire, quindi grazie ad Antonio. Tornando al discorso di Amatrice, il piatto celeberrico che sono i bucatini all'amatriciana nasce proprio da una tradizione pastorale e diciamo che in origine il piatto, cui è stato dato il nome poi di gricia era senza pomodoro, senza pomodoro, quindi guanciale, guanciale senza pomodoro, formaggio pecorino e quindi quello che il pastore riusciva giustamente a… Ecco, allora torniamo, se vogliamo mettere sotto il fattore culinario, torniamo a gustare i piatti che nascono come si possono trovare, perché? Perché quando parlano di determinati cose che fanno anche i pescatori, come potrebbe essere la paella, eccetera, quelle più normali sono dove sono un po' di verdure, perché ce le hanno nell'orto e col pesce è quello che trovano, non sono piatti uguali tutti i giorni, perché è quello che riesci a trovare, in questo caso sì, perché? Perché se nel sugo ci metti due cose in tutto, che uno è un formaggio e l'altro il guanciale, quello lo puoi fare sempre. Questo è una cosa, dopo però cosa arrivi a vedere? Che intanto vedo che abbiamo già uno sfondo, quindi poi parleremo che si possono anche mangiare queste cose, però andiamo avanti con il fatto che poi cosa fa? Roma ci mette le zampe, un po' la storia è mia. Sì, ovviamente è stata sempre molto contesa, come accennavi anche giustamente in precedenza, il discorso sia della ricetta, sia anche poi dell'appartenenza di questa... Però io ho letto che storicamente dovrebbe essere proprio di Amatrice. Poi siccome i pastori però con la transumanza si spostavano, potrebbero arrivare vicino a Gavidale, quando arrivi vicino a Gavidale è tutto suo. Scherziamo perché ci guardano anche dal Lazio, anzi saluto gli amici di Roma se ci stanno seguendo, vale il 3490634349, c'è un purista storico dell'amatriciana che ci possa dire anche la sua, però da amatriciana a matriciana, che sarebbe quella romana, ci sono i famosi passaggi raggiunti del pomodoro, poi qualcuno dice che ci puoi mettere anche la cipolla, puoi mettere l'aglio, uff, mamma mia. Invece per esempio persone che non sopportano l'aglio della cipolla, la matriciana tradizionale se la possono tranquillamente, con buon piacere, per chi lo sa, però siete sicuri che è l'originale. Certo. Ecco, sono belle queste storie, però un po' dappertutto, anche qui, quando si parla di prima guerra mondiale si parla ancora di una cosa, abbiamo detto una cosa di trincea, i valori erano ancora i campanili, e quindi anche queste storie, tutte le storie dove si vanno a recuperare le storie sul cibo, sono sempre collegate al campanile, perché poi vengono fuori queste diatribe, è mio e tuo, si fa così, si fa così, perché dove nasce ha un campanile, ha una storia e una radice. Poi se tutti vogliono metterci la sua versione, ben venga, per quello che è il modo di gustare le cose, però di fatto Francesco, se nasci in un posto, nasci in un posto. Non andiamo a parlare di pizza, altrimenti poi andiamo a discutere troppo, anzi, ne parleremo quando avremo ospiti gli amici napoletani, perché c'è una bella, questo lo posso anticipare, non posso derivare la data perché non so nemmeno io, però ci sono parecchie persone napoletane in Padovai provincia, c'è un club del Napoli, quindi ce ne sono solo un po' di cose a parlare, ma ne parleremo con loro, ovviamente, non si parla mai di vino senza l'osso. Francesco, io avevo visto un sottofondo che c'era un tre, si parlava di giornate e si vedeva o non si vedeva, perché giustamente dovevo spostarmi io, altrimenti, e quindi se faccio così, le serate gastronomiche, il tre si vede, quindi posso anche aiutare nella lettura, come vedi? Ecco, queste tre serate no gastronomiche sono una proposta che è giunta alla diciottesima edizione, che la nostra associazione fa per una... Quante edizioni? Diciotto. Diciotto. Si svolge a Limena da un po' di anni, all'inizio invece si svolgeva a Selvazzano. Ah vedi. E praticamente intende proporre una selezione ovviamente di alcuni piatti tipici preparati secondo... Abruzzo e Molise. Abruzzo e Molise, diciamo che di Abruzzese ci sono i classici maccheroni alla chitarra con il sugo di agnello e il piatto di pasta e fagioli, ecco che in dialetto si chiamano tagliarelle e faciule, e che è un po' diverso dal piatto locale veneto della pasta e fagioli e quindi c'è un'opportunità di questo scambio di saperi e piaceri con gli amici veneti. Di molisano ci sono i formaggi, i formaggi noi li acquistiamo a Capracotta, a 1400 metri e sono veramente dei formaggi eccellenti e sono pecorino, calciocavallo... E sono quelli fatti veri, dove non c'è dubbio sulla veridicità e che sono sani, perché purtroppo ormai tutti si inventano di fare tutto e anche qui non voglio dire cattiveria, però all'estero se possono copiare qualche nostro marchio basta cambiargli una vocale e poi cercano di fare le stesse cose che facciamo noi, non sono le stesse cose perché non possono essere le stesse cose e io sono su queste cose qua, le cose da mangiare nostre sono tanto buone, è inutile che ci copino, potrebbero usare le loro. Ogni paese, per quel poco che sono riuscito a girare ho trovato del buono un po' dappertutto, perché non è vero che si mangia bene solo in un posto, certo se vai in Inghilterra devi mangiare i loro piatti, perché è inutile che cerchi di mangiare la pizza fatta dagli inglesi, non è la stessa cosa nostra e non puoi cercare neanche la matriciana in Russia, però ho mangiato le cose buone anche lì, loro, delle zuppe per esempio, quindi la mania è di voler riportare tutto quanto e copiare tutto quanto, ognuno ha le sue cose e deve valorizzarle, noi valorizziamo le loro. Certo, noi cerchiamo di valorizzarle, di farle conoscere, quest'anno abbiamo delle novità per dire come cucina abruzzese, proponiamo le pallotte caciove, che sono anche questo un piatto della tradizione pastorale, che è costituito da formaggio, uovo e mollica, sono queste polpettine, chiamiamole così, che vengono dapprima fritte e poi ripassate con il sugo di pomodoro. Quindi è una cosa particolare, così come proponiamo un altro piatto che ha delle similitudini con la caponata siciliana, che in Abruzzo si chiama ciabotto, è un piatto, è un contorno di verdure, quindi quest'anno ci sono queste due novità. abbordabile anche da persone vegane, se proprio nel sugo non ci sono cose strane, penso che possono mangiare, se sono verdure solo. Sì, sì, sono solo verdure. Quindi, però mi chiedevo, Abruzzo e Molise vanno tanto a Braccetto o è per l'occasione che vanno a Braccetto? Ma no, secondo me. Come popolazioni? Come popolazione vanno a Braccetto, hanno le stesse, diciamo, un po' origini, tante che costituivano un'unica realtà regionale. Quella. No, scusate, ma purtroppo solo i messaggi non posso rispondere a te. Che vi devo dire? Ecco, se qualcuno vuole, insomma, invece che mandare, sappiatelo, sono solo messaggi, 349 06 34 349, ma solamente messaggi. Grazie. Sì, parlavamo del rapporto Abruzzo e Molise, è un rapporto sicuramente che è rimasto positivo e forse, mi permetto di dire, c'è qualche ripensamento per non ricostituire magari un'unica realtà, insomma. Ecco. Dici una macro ragione. Ma, adesso vabbè, le regioni non vanno più di moda se vogliamo, o perlomeno ci sono delle tendenze di altro genere, che non... Sì. Però... Anche le aree metropolitane, ingradire i comuni piccoli, accorparli. E questo è il futuro. Queste sono cose che si sentono, poi ecco, non si sa che quale supporto o sostanza reale abbiano, insomma. D'altronde, per quello che riguarda i giovani, forse sono più portati a una cosa così, perché sono abituati, chi riesce ovviamente si sposta, perché i divertimenti sono sempre in luoghi più grandi, perché con la scusa di internet e con la scusa di social network sei poco nel tessuto urbano, soprattutto dei piccoli paesi, ci sei fisicamente ma lo vivi poco, quindi accorpare per diventare un'unica aree forse è più facile adesso con le nuove generazioni dirlo ai nonni o ai bisnonni, non si parla, certo, poteva essere una cosa dura da digerire, ecco, o no? Sì, sì, proprio così. Perché ormai, per il possibile, fra un po' scopriremo che le radici le abbiamo in internet, non sarebbe proprio così da dire, però, insomma, andiamo a vederla sotto questo profilo, io fra un po' vado a vedere se qualcuno mi ha dato un messaggio nel frattempo, vabbè, comunque ecco, vanno a bracetto, quindi ognuno ha le sue tradizioni a livello di piatti, però… Sì, sono anche tradizioni ovviamente molto simili, perché chiaramente… Beh, insomma, agricoltura, pastorizia… Agricoltura, pastorizia, quelli erano un tempo almeno la parte fondamentale dell'economia di queste due regioni. Beh, ecco, dai. Poi, diciamo, nell'ambito di queste tre serate, ritorno al discorso di Amatrice, abbiamo pensato di dare un omaggio, diciamo, alle popolazioni così gravemente colpite da questo devastante terremoto e di domenica sera, domenica 11, di proporre come unico piatto i bucatini alla matriciana, i proventi derivanti dal consumo di questa pietanza, insieme agli altri fondi che raccoglieremo fino a fine anno, saranno destinati a un supporto, che poi studieremo quale, proprio legato ad Amatrice, sul posto, con un progettino, un'idea, come sempre abbiamo fatto ogni anno, perché ogni anno cerchiamo di fare beneficenza e poi quando capitano purtroppo questi eventi così drammatici, si cerca di essere vicini nei limiti delle proprie possibilità, ma con la massima partecipazione, diciamo così. Ecco, anche lì ho visto che molta gente si dà da fare per mandare le cose direttamente sul luogo, chi ha conoscenze, per esempio, insomma, chi ha parenti o ha conosciuto Amatrice o chi ha conosciuto qualcuno in altri paesi, cerca di andare in loco. Io so, a proposito di Amatriciana, voi avete avuto la possibilità qualche mese fa di vedere un'intervista a Bruno Serato, che è un ristorante che si chiama La Casa Bianca ed è ad Hollywood. Bruno Serato lo avete conosciuto perché è quello che dona quotidianamente i pasti ai bambini. Ebbene, lui ha fatto una cosa analoga, ha organizzato delle cene di Amatriciana e il suo intento è di raccogliere i proventi della cena totali per poter, e lui ha detto io da qui posso fare solo una cosa, prendere in affitto, fare in modo di venire giù in Italia, prendere in affitto lì vicino qualcosa e dare a qualche famiglia, soprattutto lui con la sua fondazione, quella che porta il nome della mamma, Caterina, fa tutto per i bambini, quindi ci fossero famiglie numerose con dei bambini che hanno bisogno, io gli prendo un appartamento in affitto almeno per un anno, così si levano da questo impiccio, perché purtroppo, a parte l'inverno alle porte, ma dopo l'inverno c'è la primavera, ci sono anche le tende, le casette, tutte queste cose qua si parla di mesi, noi cercheremo di fare così e quindi cercare di dare mirato, perché sono belle le raccolte che vanno nel mare Magnum, ma purtroppo, io non voglio assolutamente fomentare questa idea, però qualcuno ha sempre l'idea di ma, arrivano tutti, ma, si perdono, invece tu dici guarda io ho appinto un appartamento, vado dal sindaco di Amatrice e dimmi la famiglia che ha più bambini, che è rimasta senza casa e questo glielo diamo, queste sono le chiavi, questa è l'idea di Bruno Serrato dall'America, certo ovviamente lui ha radici qui, quindi è abruzzese lui di origine, quindi per quello l'ha sentita molto sta cosa, però ecco, chi lo fa, lo fa mirato, e voi stessa cosa? Sì, sì, noi nel piccolo ovviamente non, quello che possiamo fare l'abbiamo sempre fatto assolutamente legato ad un, chiamiamolo un progettino, un'idea, un qualcosa che ci consentisse di, insomma, di dare un po' di valore a quello che fai, perché così tocchi con mano e anche il contatto con le persone, eccetera, è sempre qualcosa di molto, diciamo, gratificante, che ti arricchisce, perché scopri delle realtà, delle situazioni. Ecco, io vedevo che Nicoletta e Michele ringraziano già da subito tutti i volontari, perché è quello che rendono possibile queste tre serate, perché anche lì se vuoi fare raccolta di fondi, vuoi fare qualcosa, invece di me se non c'è il volontariato, il volontariato è quello bello, come un po' la stessa cosa che succede nelle sagre, per dare una mano a chi? Per dare una mano al parroco nel caso della sagra, in questo caso qui, per fare una cosa a favore dei terremotati, ci sono un sacco di persone che si impegnano. Ne parleremo anche venerdì di stranezze di questo genere qui, perché ho avuto occasione di parlarne e venerdì abbiamo le Miss, però dico già, attenzione, e quindi è bello vedere quanta gente si dia da fare. Poi il brutto è che nell'immediato tu vorresti fare mille cose, invece nel momento in cui devi fermarti, fare un'analisi di che cosa serve, perché a parte è quelli che sono i soccorsi sul luogo, chi si deve impegnare per dare una mano deve organizzarsi, sembra una sciocchetta Francesco, ma tu mi confermerai, bisogna pensarci prima per fare bene. Mi piace anche quello che hai citato in precedenza, della partecipazione delle persone, perché veramente è la cosa che ti gratifica in queste iniziative, perché vedi il supporto spontaneo di tanti amici che ti consentono di fare questi piccoli eventi che ovviamente comportano un grande impegno. Ecco, io dico se vuole provare eventualmente l'energia a fare un ultimo tentativo, ma fra un po' dovremmo salutare, quindi eventualmente… Allora, non abbiamo Giovanna con cui parlare nel momento. Claudio? Sì? Abbiamo appena provato e ancora ho provato. Perfetto, allora niente, possiamo dire che saremo a Servazzano nel mese di novembre, parleremo ancora di grande guerra. Così, giusto per statistica, l'interesse dei giovani per queste cose rispetto a chi magari era un po' più anziano, l'ha vissuta da bambino, ne ha parlato con il nonno, eccetera, e i giovani hanno un interesse per queste cose, se ne vedono, si informano, vengono, oppure così? Diciamo che i giovani vengono se si riesce a organizzare un qualcosa con le scuole, e allora perché mi rendo conto che è difficile magari l'approccio con una realtà che un pochettino sfugge sia al quotidiano che anche a quello, diciamo, nonostante alcune cose si studino a scuola, ma in realtà c'è un pochettino di conoscenza molto vaga. Però al momento in cui questi ragazzi vengono messi di fronte a queste realtà, la reazione è molto positiva ed è questo il motivo per cui noi cerchiamo di incentivare questa partecipazione. Intanto noi continuiamo a vedere anche delle belle immagini, perché ecco lì ci sono fotografie, filmati, pannelli e poi ricordiamolo, perché a Verona, non so se è previsto anche a Selvazzano di fare qualcosa, però a Verona parliamo anche di spettacolo. Sì, a Verona è previsto uno spettacolo, uno o più interventi della compagnia Gino Franzi. Vogliamo dare le date sicure e certe intanto di Verona, perché mi pare di aver capito che comincia il 14 del mese di ottobre. Il 14 è un venerdì, alle ore 17 c'è l'inaugurazione e c'è ovviamente oltre alla partecipazione dell'amministrazione comunale che ha sostenuto questo progetto, questo evento, ci sono interventi di professori universitari di Verona e ci sono interventi anche per esempio di Franz Brunner del Museo della Grande Guerra Tre Sassi di Cortina, che ci presenta anche gli aspetti, diciamo, al di là della linea del fronte. Ed è questa una cosa molto interessante, confrontarsi con quelli che erano i sentimenti anche dei militari che fronteggiavano quelli italiani. Poi abbiamo anche un pubblicista importante che si chiama Mitia Juren, un esperto della guerra del Carso e poi abbiamo i curatori della mostra Andrea Morelli e Italo Vantini che daranno la loro lettura e il loro pensiero su come è stata organizzata questa iniziativa. Poi come eventi il 4 novembre il professor Vantini e il professor Lallobbia parleranno dei giornali di trincea. Venerdì 18 novembre, sempre questo alle 17, la compagnia Gino Franzi canta che ti passa, parole e canzoni raccontano, che è uno spettacolo teatrale ovviamente. Poi il 25 novembre il dottor Stefano Modena, la domenica del Corriere e il Corriere dei Piccoli raccontano la grande guerra. Il dottor Modena è un collezionista e quindi conosce molto bene queste pubblicazioni che saranno adeguatamente illustrate. Poi chiuderà venerdì 16 dicembre uno dei curatori Andrea Morelli che tratterà della fotografia nella grande guerra. Andrea Morelli è quello che ha restaurato 535 foto dell'album con un lavoro di circa due anni e quindi parlerà ovviamente anche di problemi tecnici e anche di ricostituzione nella giusta luce delle immagini che oggi sono disponibili. Effettivamente io in passato ho provato a vedere delle foto un po' antiche, cosa si può fare con Photoshop eccetera, però rimettere a posto la foto in quanto lei proprio, quella cartacea, deve essere una cosa veramente del gran restauratore perché se con i filtri con questo, con quello si riescono a fare tante cose e quello che riesci a fare invece con l'originale no, è decisamente più difficile. Ecco prima dicevamo una parte di questa manifestazione si sposterà a novembre anche a Servazzano, se riuscivamo purtroppo non riuscivamo a parlare con Giovanna Rossi, volevo affrontare con lei due secondi di argomento della serie, l'abbiamo detto anche a proposito, una cosa interessante saranno le visite guidate per le scolaresche. Perché caspita i ragazzi sono finalmente contenti, sono in fibrillazione, non vedevano l'ora che cominciasse la scuola, era troppo che era chiusa la scuola, sto dicendo una bugia, forse qualcuno mi dirà hai sbagliato Claudio, forse se facciamo un po' di vacanza va bene, no dai, credo che la voglia di andare a scuola non c'è mai ma in realtà c'è sempre perché fa parte della vita normale e degli impegni per circa nove mesi che da una certa età, un'altra età hanno i ragazzi. Quindi ragazzi che dire, possiamo solamente fare un bocca al lupo per tutti quanti perché dai prossimi giorni ricominciano le scuole e ricominciano anche a Servazzano un sacco di cose, per esempio se uno deve portare i bambini presto perché deve andare come dicono a Milano a Laura, lo può fare perché apre molto prima alla scuola c'è un impegno fatto con il personale scolastico eccetera, quindi poi ci sono a Servazzano sempre cose bellissime, dire la verità, adesso ci sono addirittura i posti riservati alle neomamme, quindi andiamo a cercare di fare anche questa, non è parcheggi riservati vicino alle scuole, quindi sono cose molto belle, sono cose di cui parlare perché? Perché come dicevo la nostra scelta è stata questa sia per l'orario che per gli argomenti, di non fare le stesse cose che parlano i telegiornali, ma parlare di cose dove possono essere anche delle cose molto importanti, qualche volta quando parli di una guerra mondiale è anche tristi, ma in cui poi cerchiamo sempre di trovare il buono, il bello e l'interessante perché diventi poi una chiacchierata in amicizia. Il bello delle associazioni è che ci aiutano in questo, perché organizzando un sacco di belle cose e dando valore a quelli che sono certi momenti, in questo caso della storia ovviamente, riportano anche alla gente in modo più umano, più uniforme, come dicevo vedere delle vecchie foto non è come studiare i suoi libri, sentire raccontare da chi l'ha parzialmente vissuta o comunque l'ha sentita raccontare da chi l'ha vissuta fisicamente, sono delle cose decisamente diverse, è il modo in cui di solito Casa Cappè vuole farvi provare le cose, quando invitiamo le persone che suonano, le facciamo anche suonare, non è che le facciamo raccontare o sentiamo il disco, è lo stesso vale, ecco, tutte le persone che le cose le fanno e le vivono a noi piacciono, quindi grazie a Francesco Mutteniani perché l'associazione si occupa di tante cose, se ne occuperà, vi ricordo, le tre giornate che sono il 9, 10 e 11, quindi venerdì, sabato e domenico. E dove? A Limena, presso il Pra del Donatore. Anche lì, se andate nel momento poi della matriciana, sarà un sistema per raccogliere i soldi a favore dei terremotati. Claudio Casolati ringrazia Francesco Mutteniani, l'associazione Barbino D'Annunzio e dice a tutti quanti che l'appuntamento con Casa Caffè è il venerdì, ma qui c'è da stare tutti i giorni attenti, ci sono un sacco di cose, dalle rubriche alle televendite fino ai film, meravigliosi, quindi seppogliate qui siete e qui restate. Buona serata a tutti, grazie alla regia perché siamo tornati con delle novità bellissime, non posso mostrarle, bellissime. Grazie, ciao. Grazie, grazie Claudio. Grazie. Grazie. Grazie.